Salve e bentornati. Allora questa volta vediamo una cosa che mi è stata chiesta da alcune persone che in pratica hanno questo problema, cioè come fare a poter utilizzare l'immagine di un oggetto che è prospetticamente distorta per poterla trasformare in una lavorazione con CNC o con CNC laser. Passiamo ad un esempio che facciamo prima e così ci capiamo. Supponiamo che navigando in rete avete visto l'immagine di un oggetto ora io utilizzerò questo ma semplicemente per fare l'esempio. Avete visto l'immagine di un oggetto che però essendo una fotografia ha una deformazione prospettica e quindi non potete andare o a vettorializzarla con una procedura automatica o a vettorializzarla andandola a ridisegnare. Allora all'interno di Gimp che è un software di grafica raster open source quindi liberamente scaricabile. Noi possiamo aprire l'immagine. Dopodiché andando a selezionare lo strumento di correzione prospettica ci si apre il menu qui in basso. In questo menu noi abbiamo a disposizione due modalità selezioniamo la normale o la correttiva. Selezioniamo la correttiva e facciamo un clic all'interno dell'immagine ci appariranno questi quattro quadratini ai lati che noi dovremo andare a praticamente regolare sulla forma geometrica in una qualche maniera riconoscibile sull'immagine stessa. Ora io utilizzerò chiaramente i riferimenti di questo quadrato praticamente. Una volta fatto questo e posizionati più o meno in maniera corretta clicchiamo su trasforma. Lui praticamente vedete che ci prende e ci raddrizza l'immagine ma ce la fornisce in modo deformato. Ora andando su immagine e scala immagine togliendo chiaramente la spunta al blocco delle proporzioni noi possiamo fargli modificare le proporzioni di questa immagine. Supponendo che questa sia nella realtà un quadrato io vado a dare qui un valore che è per l'altezza identico a quello della larghezza e clicco su scala. Lui elabora ed ecco qui che praticamente ci ha generato ora lasciamo perdere la parte completa perché tanto a noi interessa questa ci ha generato l'immagine ridimensionata, scalata quindi con le proporzioni che dovrebbero essere corrette in base alla selezione che noi avevamo fatto. Ora come potete vedere qui evidentemente io non sono stato precisissimo nella selezione dello spigolo però insomma il concetto è chiaro. Ora facciamo una prova con un'altra immagine ancora prendiamo ecco questo io sto utilizzando lavori miei però ripeto sono solo di esempio quindi riclicco su prospettica seleziono correttiva clicco sull'immagine e in questo caso mi vado a prendere il rettangolo quindi diciamo mentre nell'altra era evidente che era un quadrato quindi la cosa era abbastanza automatica in questo caso un po' meno però riportati i punti di riferimento è ovvio più riesco ad essere preciso con il puntamento e migliore sarà la trasformazione clicco su trasforma ed ecco qua che in pratica in questo caso io non ho neanche la necessità di modificarla ed ho quindi la mia immagine pronta ora posso esportarla, ritagliarla posso fare un po' come voglio potrei per esempio andare qui andare a ritagliarmela supponendo chiaramente che il disegno che mi interessa è questo interno ed ecco qua che ho l'immagine pronta da poter essere esportata allora in scape lo abbiamo visto più volte e varie volte ho fatto vedere in alcuni video la modalità di vettorializzazione in automatico che lui ci consente di effettuare allora supponiamo di aver importato un'immagine ricordiamoci sempre che a prescindere dal software con cui andiamo a lavorare è sempre bene andare a modificare le dimensioni del formato in base a quella che è più o meno diciamo la dimensione dell'immagine su cui stiamo lavorando ok? perché a seconda del software che andiamo ad utilizzare poi la pagina può incidere sul formato complessivo allora noi abbiamo questa immagine e abbiamo visto in vari video che io con vettorizza bitmap selezionata l'immagine e aperto il vettorizza bitmap se gli do l'anteprima diretta ho l'immagine di quello che lui mi andrà a creare in base alla tipologia di scansione che vado a selezionare e in relazione alla modifica dei parametri allora una cosa molto interessante secondo me è che io magari parto da un'immagine che è questa ho in mente di fare un qualcosa poi quando vado qua dentro e vado a modificare i parametri magari ottengo delle immagini come dire inaspettate che poi diventano esse stesse interessanti come ad esempio ecco questa qui la linea semplicemente sopra del pesce allora i metodi che in scape ci mette a disposizione sono pari il primo è la riduzione di luminosità quindi lui lavora ovviamente sui livelli di luminosità dell'immagine con il rilevamento bordo invece lui ci va ad individuare i bordi però fate attenzione perché quando lui rileva il bordo lo rileva in misura doppia se io adesso qui do ok chiudo e vado all'interno vedete che praticamente questa qui che secondo noi dovrebbe essere una linea se noi andiamo a effettuare l'eliminazione del riempimento e a mettere il contorno vediamo che invece è una doppia linea perché chiaramente lui individua il contorno della traccia di colore su entrambe i lati quindi alcuni si aspettavano di trovarsi con i bordi già pronti singoli mentre invece poi chiaramente questa va lavorata torniamo all'immagine riselezioniamola e riprendiamo il vettorizza bitmap andando avanti un'altra modalità a mio giudizio molto interessante per la creazione di effetti è questa è la quantizzazione del colore che ci consente in pratica di ottenere delle immagini molto modificate ma che ci possono dare di nuovo degli spunti per la creazione di figure c'è poi il negativo immagine che chiaramente fa il contrario di quello che è la parte iniziale poi abbiamo i passaggi di luminosità e anche in questo caso possiamo andare a modificare le scansioni però nel caso di questa immagine se io volessi andare ad ottenere il dettaglio maggiore rispetto all'immagine sicuramente dovrei andare con i colori ora con i grigi praticamente ottengo lo stesso effetto senza i colori perché lavorerebbe sui valori 0.255 mentre invece con i colori lavora su tutta la gamma dei colori e la cosa interessante sui colori è questa che in base al numero di scansioni che io do supponiamo che io dia 4 quindi lui mi andrà a rilevare quattro tonalità di colore dell'immagine io gli do l'ok e lui chiaramente mi avrà creato l'immagine ora togliamo questa sotto tanto non mi serve più e andiamo a vedere un'altra cosa l'elemento che lui ha inserito in questo caso è un oggetto quindi se io lo clicco lui me lo sposta tutto quanto insieme ma se io in oggetto vado a dirgli dividi lui in pratica mi creerà vedete uno due tre e quattro oggetti separati che sono chiaramente i corrispondenti delle scansioni che io gli ho detto di eseguire se li vado a spostare praticamente avrò quattro disegni con quattro bande di colore differenti e poi un colore unico che è quello dello sfondo e vedete che anche qui è diciamo estremamente interessante l'effetto grafico ma di nuovo ora ad esempio io tolgo questo perché non mi interessa se prendo questo e gli vado a ridire di eliminarmi il riempimento di mettermi il contorno e nello stile vado a ridurre ecco qua che praticamente io ho un perimetro che è già più o meno lavorabile chiaramente questo in relazione a che cosa sto facendo che cosa voglio ottenere quindi in pratica tornando indietro io mi sono trasformato ho suddiviso il mio oggetto in quattro livelli ora sono praticamente tutti lavorabili e una cosa molto utile da fare in questi casi è aggiungere un livello chiamiamolo uno aggiungiamone un altro e chiamiamolo due aggiungiamone un altro e chiamiamolo tre dopodiché seleziono un oggetto qualsiasi e lo sposto al livello uno dopodiché il livello uno lo chiudo poi prendo un altro oggetto e lo sposto al livello due e lo chiudo poi prendo l'altro oggetto e lo sposto al livello tre e lo chiudo ok a questo punto in pratica io ho eliminato tutto però ho i miei tre oggetti su tre livelli separati che posso andare chiaramente innanzitutto a spostare come voglio per modificare l'effetto grafico ma l'altra cosa è sempre quella che avevamo visto prima e cioè andiamo a togliere il riempimento andiamo ad attivare il livello del contorno e ripetiamo la stessa operazione su tutti e tre i livelli quindi elimino il riempimento e attivo il contorno questo l'ho già fatto e passo a successivo ora perché questa cosa? perché se io voglio andare a fare delle modifiche su questi oggetti questi oggetti chiaramente ora faccio questo esempio io non ho in mente una idea grafica è solo per far vedere che cosa si può fare e come va fatto allora supponiamo che ecco qui io voglio che questi tre oggetti qui l'occhio diventino tre elementi separati allora innanzitutto devo individuare quali sono i layer che me lo rendono cioè che me lo compongono in pratica per cui io seleziono il primo e gli cambio il colore del contorno in modo tale da distinguerlo ok quindi so che il 2 contribuisce e prendo come riferimento questo qui interno allora io ho il livello 3 quindi questo ok che in pratica mi concorre alla definizione dell'occhio ora chiaramente io potrei andare a modificarmi un po' come voglio tutti i vari perimetri perché sono stati vettorializzati per cui con i vari strumenti posso fare quel che voglio ma quello che mi interessa farvi vedere è questo se io ad esempio volessi realizzare una campitura interna tra questo e questo che tenga conto del foro centrale allora che succede che se io vado su riempimento e lo attivo scusate riempimento chiaramente del livello prima il 2 quindi vado sul riempimento e questo è diventato pieno dopodiché torno sui livelli questo qui è il 3 vado a dare riempimento anche al livello 3 ora che succede qui che praticamente il livello 3 mi va a coprire il livello 2 mentre invece io non voglio questa cosa allora cos'è che devo fare devo selezionare l'oggetto spengo il layer così si rende più chiaro devo selezionare l'oggetto andare su tracciato dirgli da oggetto a tracciato poi riattivo l'altro quindi da oggetto a tracciato il primo e da oggetto a tracciato il secondo ora se io riattivo i due livelli e li vado a selezionare e gli vado a dire in tracciato ad esempio differenza ecco qua che lui mi svuota l'interno ok e questa è un'operazione piuttosto diciamo frequente quindi in sintesi per poter utilizzare uno qualsiasi di questi comandi io devo convertire gli oggetti in tracciati altrimenti queste funzioni non sono diciamo disponibili e dato che quelle sono molto utili per effettuare tutta una serie di modifiche questo diventa praticamente un passaggio fondamentale ecco qua che io con una semplicissima operazione in pratica gli ho fatto eliminare tutte le aree di intersezione fra i due perimetri e in due secondi ho ottenuto diciamo un effetto grafico ora supponiamo che ad esempio queste aree io le avessi volute lavorare o con una CNC o anche con il laser allora adesso però vediamo diciamo l'utilità nel complesso quindi rinizio vettorizzo la bitmap seleziono i colori anteprima diretta e gli do quattro scansioni quindi quattro colori gli do l'ok chiudo lui mi effetta la scansione elimino l'immagine da sotto che non mi interessa dopo di che vado su oggetto e gli dico dividi poi creo un nuovo livello e lo chiamo riquadro prendo l'immagine praticamente lo sfondo e lo sposto al livello riquadro e spengo ok il livello riquadro lo sposto sotto in modo tale che se lo vado da riaccendere non mi copre l'immagine allora noi adesso in teoria abbiamo uno due e tre livelli separati ok quindi creo un livello uno e sposto il primo oggetto poi poi seleziono il secondo oggetto lo sposto scusate prima devo creare un nuovo livello 2 e un nuovo livello 3 seleziono il secondo oggetto lo sposto al livello 2 poi seleziono il terzo oggetto e lo sposto al livello 3 ora questo non l'ho spostato ok quindi adesso 1 il 3 e il 2 se li accendo tutti chiaramente la loro sovrapposizione mi va differenziata perché in pratica a seconda di dove ho messo il livello io vedo o non vedo un oggetto però supponiamo mi concentro praticamente solo sulla parte dell'occhio in modo tale da rendere un po' più evidente la cosa allora se io seleziono anzi facciamo una cosa prima spegniamo tutto ok seleziono il primo livello e gli dico da oggetto attracciato poi lo spengo poi accendo il 3 e anche qui gli dico da oggetto attracciato e gli dico separa ok vedete che ci ha impiegato un po' di tempo perché ha dovuto separare tutti quanti gli oggetti rifaccio la stessa cosa sul livello 1 perché non l'avevo fatto quindi separa ok e faccio la stessa cosa sul livello 2 tracciato separa quindi in pratica io ho trasformato tutti gli oggetti in tracciati e li ho separati perché li ho separati perché nel momento in cui io adesso vado a selezionare un oggetto io posso modificarlo uno per volta cioè nell'esempio che ho fatto prima con la funzione di intersezione io sono andato ad applicare l'intersezione a tutto quanto l'oggetto mentre invece supponiamo che io voglio lavorare soltanto su alcuni elementi ad esempio questo è uno e questi sono altri quindi andiamo sull'occhio e andiamo a cercare di effettuare l'operazione che volevo fare io quindi spengo il livello 1 allora come possiamo vedere ai fini della definizione dell'occhio il livello 3 non mi interessa perché non concorre mentre invece il 2 e l'1 concorrono ok? tanto è vero che se li sposto uno sopra l'altro scusate l'1 e il 2 vedete che l'immagine mi si modifica ora supponiamo che io innanzitutto voglio modificare il perimetro di questo oggetto perché non mi piace e quindi lo rendo più rotondo è ok ma se io adesso andassi ad esportare questo oggetto qui all'interno di jscat io praticamente avrei due poligoni differenziati ok? mentre invece diciamo che io non voglio questa situazione qui allora per rendere il tutto evidente adesso facciamo una cosa io cancello tutti gli oggetti che non mi interessano in modo tale da rendervi più chiaro il meccanismo altrimenti con tutti gli oggetti come dire ci si confonde quindi cancello completamente tutto e lascio solo la parte dell'occhio ma è evidente che diciamo il concetto vale anche per l'altro il 3 lo lascio perché è utile per vedere anche un'altra cosa allora io adesso sono in questa situazione e salvo il mio progetto ok? vado in una posizione e lo lo nomino un secondo di pazienza e lo chiamo inc01 salvo e vado direttamente in jscat ad aprire il file così come in questo momento si trova quindi in pratica io adesso in jscat vedo esattamente quello che io ho lasciato acceso nel mio file di inscape quindi ho lasciato l'occhio vado ad aprire l'ho salvato vado ad aprire il file e lui praticamente mi da questi due policoni che si sovrappongono e abbiamo visto in altri video che se io volessi andare a lavorare solo l'area esterna a questo perimetro potrei farlo però dovrei andare a selezionare i due oggetti e nella operazione di pocket andare a dirgli di utilizzare la funzione XOR ora però supponiamo che io nel disegno del pesce non ho una sola area ma ne ho tantissime e diventerebbe quindi un po' complicato fare questa lavorazione da qua dentro allora torniamo in jscat andiamo qui e andiamo a selezionare i due poligoni che ricordo abbiamo trasformato in tracciati andiamo su tracciato gli diamo differenza e vediamo quello che succede eccolo qua in pratica io ho il mio poligono che è stato ritagliato ora se io salvo torno in jscat chiaramente devo riavviarmelo open e lo vado a riaprire in pratica io adesso ho il mio poligono che è direttamente lavorabile quindi l'area che io volevo lavorare che qui avrei dovuto avrei potuto lavorare utilizzando una funzione di jscat posso andare praticamente a crearmela già bella e pronta per la lavorazione all'interno di in escape oltre questo ora supponiamo che io mi vado a riaprire il livello 3 lo sposto sotto perché altrimenti non riuscirei a vederlo praticamente io adesso qui ho la stessa identica situazione cioè ho l'occhio che mi va sopra ma se supponiamo che io volessi lavorare con un pocket quest'area e con un pocket diverso quest'altra io avrei di nuovo il problema che ho detto prima ma se io di nuovo vado qui e seleziono sul livello 3 devo però prima andare ad individuare il poligono di riferimento perché chiaramente vedete che io ho questi tre oggetti che non mi interessano ok perché ripeto supponiamo che io il mio occhio lo voglio così quindi questi tre oggetti ad esempio potrei selezionarli e cancellarli ma io voglio però che questo perimetro mi venga lavorato unitamente a quell'altro cioè all'occhio e allora che faccio faccio la stessa cosa di prima seleziono questo seleziono il contorno vado su tracciato e gli dico differenza a questo punto lui mi ha tagliato da questo perimetro l'altro perimetro che avevo creato se ora io salvo torno in escape scusate in jscat e vado ad aprire di nuovo il file che ho creato così come ora è aperto lì dentro ecco qua che io in pratica ho il mio perimetro lavorabile vedete praticamente posso lavorarmi il perimetro completo del pesce e in più l'aria interna dell'occhio ok oltre questo io posso anche ulteriormente combinare le lavorazioni perché con un trucchetto che avevo fatto vedere un po' di tempo fa in un altro video e cioè quello di mantenere in pratica una finta lavorazione all'interno di jscat in questo caso il riguadro cioè io tolgo il riempimento gli do un contorno e salvo torno in jscat riavvio il jscat e mi vado a riaprire il file che ho salvato allora se io praticamente come ho fatto vedere altre volte io qui non posso cambiare il diciamo la punta ma io posso però andare a selezionare l'area che voglio lavorare supponiamo che sia questa e che faccio la lavorazione con un pocket adesso lascio i parametri così a caso non mi interessa ok se e poi seleziono il perimetro e gli dico di creare una nuova lavorazione supponiamo che sia un outside con una profondità volendo anche di zero gli dico genera se io vado a creare il mio gcode qui dicendogli di ritornare a zero alla fine della lavorazione io saprò che la punta mi tornerà esattamente se gli dico nell'angolo in basso a sinistra nell'angolo in basso a sinistra ora se io vado in scape supponiamo che non lo so facciamo finta che io voglio lavorare soltanto queste aree qui ok solo questa è semplicemente un esempio allora aggiungo un nuovo livello lo chiamo 4 mi seleziono le aree che ne so che voglio lavorare ad esempio con una punta diversa una cosa qualsiasi le sposto al livello 4 ok a questo punto io vado sui livelli spengo tutto lascio solo il livello 4 e il riquadro che evidentemente ok spengo tutto lascio il 4 e il riquadro salvo e torno in jscat apro un nuovo jscat chiaramente io adesso ho la mia macchina che ha completato la prima operazione e io a questa gli vado a dare la seconda lo riapro ecco qua che io adesso potrei andare a lavorarmi queste aree supponiamo con un pocket con una punta che è diversa da quella selezionata prima ok dopodiché prendo creo l'operazione di outside sul riquadro che in questo caso diciamo mi serve solo per avere la generazione del gcode che parte sempre da questo punto ecco qua che io posso smontare il disegno e realizzarlo in più passate come voglio ma con il vantaggio però di avere praticamente un unico file di inscape sul quale io vado a lavorare in passaggi successivi come voglio e con il vantaggio oltretutto che utilizzando i livelli posso organizzarmelo volta per volta come voglio quindi per concludere partendo da gimp e raddrizzando un'immagine utilizzando la vettorializzazione di inscape e combinando diciamo l'interfacciamento che c'è tra inscape e jscat io già solo così ho una ampia varietà di operazioni che posso andare a realizzarmi spero di essere stato chiaro e che vi sia utile vi saluto e alla prossima